Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sarà una data che per il governo sarà cruciale, importante, con la procura di Milano che l'11 di ottobre del 2024 deciderà proprio su Daniela Santanchè. Quindi il momento cruciale per il governo di Giorgia Meloni con la procura di Milano. Che succede? Che con queste parole D'Agospia parla di quel giorno cruciale per la Meloni e soprattutto per quello che sarà il futuro della ministra del turismo Daniela Santanchè, sulla quale la procura di Milano è chiamata a decidere sul rinvio a giudizio a proposito della, chiamiamola, presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid per quanto concerne il caso Visibilia. Diciamo che quello che succederà quell'11 di ottobre è abbastanza scontato. È difficile che ci sarà un altro epilogo. Secondo quanto si apprende da D'Agospia, l'11 ottobre sarà appunto questo giorno particolare dove decideranno proprio sul rinvio a giudizio della Santanchè dove l'accusa è che ha utilizzato 126.000 euro della cassa integrazione del periodo Covid e quindi c'erano delle persone, i dipendenti dovevano essere in cassa integrazione Covid pagati dallo Stato. Invece, secondo l'accusa, questi dipendenti prendevano la cassa integrazione ma andavano a lavorare e quindi l'azienda non li pagava, venivano pagati dallo Stato perché dovevano essere a casa in cassa integrazione invece erano al lavoro. Quindi diceva al posto che pagarli noi li pagava lo Stato. 126.000 euro. Dalle informazioni riportate sempre da D'Agospia, la procura ha accusato la senatrice di Fratelli d'Italia anche di falso in bilancio insieme ad altre 16 persone e 3 società nella seconda parte, nella seconda tranche del pacchetto Visibilia. Potrebbero essere abbastanza decisive per il governo Meloni, in quel senso la Santanchè ha sempre detto che avrebbe rassegnato le dimissioni nel caso peggiore, mentre la Meloni spera che queste non si sovrappongano a quelle del ministro Fitto destinato a Bruxelles, cosa che potrebbe portare a un rimpasto di governo che lei vorrebbe evitare. Quindi a ottobre Fitto va in Europa, si libera il posto di Fitto, la Santanchè si è rinviata a giudizio, diventa un altro problema per il governo e poi abbiamo anche il processo di Salvini, perché attenzione, il 13 di ottobre se non sbaglio, il 13 di ottobre ci sarà la ringa finale della difesa nel processo Open Arms e qui poi ci sarà il verdetto sul caso Open Arms. Quindi ci potrebbe essere il vicepresidente del Consiglio condannato, ministro del Turismo rinviato a giudizio, cioè col processo che si apre. Insomma, diciamo che intorno a Meloni si sta facendo proprio, come si dice, terra. Tornando al caso della Santanchè, la richiesta di rinvio a giudizio riguarderebbe anche il compagno Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzione di gestione del personale di visibilia editore e visibilia concessionaria, oltre alle due stesse società, gli accusati sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto indebitamente per un totale di 13 dipendenti la cassa integrazione inderaga a sostegno delle imprese colpite da effetti della pandemia Covid. Come dicevamo, la Santanchè è accusata anche di falso in bilancio insieme ad altre 16 persone e tre società nella seconda tranche del pacchetto visibilia. Anche questa già chiusa è per la quale nelle prossime settimane ci sarà la richiesta di processo. Quindi diciamo che intorno a Giorgia Miloni ne stanno succedendo di tutti i colori, dal processo a Salvini, quello che succederà a Santanchè, quello che è appena successo a San Giuliano, sgarbi con i quadri, il pistolero di Capodanno, del Mastro con le dichiarazioni in Parlamento riservate e poi abbiamo quella condannata che si comprava i giocattoli per adulti con i soldi dei contribuenti, delle tasse degli italiani, quell'altro che ha patteggiato per corruzione, toti che ha patteggiato anche lui per corruzione impropria, ha patteggiato due anni e un mese. Dimentico qualcuno? Aspettate perché forse non è finita. Diciamo che intorno a Meloni c'è un discreto problema, è colpa della Meloni che ha sbagliato la classe dirigente, il governo oppure chiunque avrebbe messo sarebbe finita così perché le persone di un governo di destra sono esposte a un'attenzione particolare? Beh, sul caso Salvini direi che c'è un'attenzione particolare su Matteo Salvini. Sugli altri casi, insomma, dal pistolero ai quadri, alle dichiarazioni in Parlamento, all'Inps, la cassa integrazione, diciamo che lì San Giuliano che casca come Napera dopo essere stato avvertito. Diciamo che secondo me in alcuni casi c'è un'attenzione particolare perché sono persone del governo di centrodestra, in altri casi, insomma, non c'entra né destra né sinistra, ma tu se sei uno che cade nella rete dopo che sei stato avvertito. Insomma, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e grazie.